Buongiorno, oggi volevo presentarvi un'iniziativa che a nostro avviso è sicuramente una piaccia familiare perché è una collaborazione con l'Associazione Italiana dei Chinesiologi ed è una specializzazione del chinesiologo del benessere cardiaco. Quindi in questa edizione riservata ai laureati in scienze motorie e ai diplomati ISEF verranno fatti due weekend insieme all'Associazione di Cardiologia per specializzare dei tecnici che possano lavorare sia sulla prevenzione che anche sul post-appunto delle problematiche cardiologiche. Questi tecnici dovranno infatti essere in grado di agire proprio su tutta quella grande massa di persone che hanno problematiche cardiovascolari e che magari sono stati indirizzati a fare attività fisica proprio da parte di un medico. Chiui alla fine dei due weekend supererà il test finale verrà inserito in un albo speciale che è proprio all'interno del sito riservato ai medici cardiologi. Quindi che cosa significa? Che il medico cardiologo potrà dare al suo paziente l'indicazione proprio esatta del nominativo che nella sua zona si occupa di questo tipo di problematiche. Questo è un grande vantaggio. Quindi un valore aggiunto in quanto sarà lo stesso medico a poter indirizzare al chinesiologo. In futuro, a breve, riusciremo anche a fare una seconda figura che è il tecnico chinesiologo per il quale non è richiesta la laurea in scienze motorie. Sarà sufficiente quindi essere un tecnico abilitato con un diploma di fitness, di building, eccetera. Chiaramente il ruolo di queste persone sarà più un ruolo nella prevenzione, quindi un ruolo con delle capacità non così complete come le altre scienze motorie. Però ugualmente è un settore su cui FIF sta lavorando. Attualmente il chinesiologo deve essere cardiaco e invece più avanti avremo il tecnico chinesiologo. Troverete sia sul sito FIF, su quello dell'associazione chinesiologi, e su Performance tutti i dati relativi a questo corso.